Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, a causa di un incidente, traffico bloccato tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla FIPILI per i lavori di adeguamento alla sicurezza tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra ci sono code in entrambe le direzioni, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 e sulla A11. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!